Il concerto di questa sera, un piacere di raccogliere le vostre impressioni. Beh, è sempre meraviglioso, una settantunesima edizione meravigliosa. Ho visto un po' il programma, ci saranno tantissimi ospiti importanti, orchestre europee di grande livello, e quindi siamo felici di essere qui. Ma abbondanza di orchestre, piacevole e infinita. Stasera iniziamo questa di Vienna, che è un'eccellenza a livello europeo. Il Festival Barocco sta sempre nei posti. Ma intanto i vostri programmi non sono da meno. Non da meno perché fra il 12 luglio saremo al Festival delle Ville Vesuliane, quindi saremo nella Basilica Reale di Portici, e poi proseguiremo con una bella stagione che sarà annunciata la volta per i Portici. Dal 12 luglio, Cappella Reggio di Portici, la famosa Cappella dove avremo a sfogliare gli spartiti. Per il maestro di Cappella, perché lui non riuscì mai a suonare per il re, in quanto a Napoli c'erano circa 300 maestri di livello suo, in quel momento sicuramente più elevato del suo, quindi il re non l'ha mai ascoltato. Sempre auguri e complimenti per quello che fate e per quello che seguite, perché generalmente questi presidenti si chiudono a enclave, si preoccupano delle loro cose, mentre invece voi siete qua da semplice utente, avendo alle spalle un carico enorme di un programma che avete messo. Cerchiamo di documentare in Domenico Scarlatti quello che vediamo, quindi mi è un piacere. A luglio e complimenti. Grazie. Ci vediamo alla Reggio di Portici. Assolutamente.